E buonasera, buonasera a tutti amici di Roma Scavoccia Oggi ho questo raggio che mi taglia la faccia Ma sono in trasferta, dall'altro è un ambiente abbastanza un po' per me almeno Disagevole, guardate con cosa mi tocca fa' nel video Male male, eh purtroppo quando uno è in trasferta si accontenta Mamma mia, è difficile parlare di Roma con sta roba Vabbè, comunque ragazzi, mettete il pollicione, commentate E insomma fate interazioni con sto video Vabbè, oggi torniamo alla vittoria Roma Spezia, Roma 1-0, fascio di luce in faccia e ambiente abbastanza inquietante Allora, quindi, commentate Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate Oggi una grandissima Roma Mettete il pollicione e iscrivetevi al canale Come dice Buon Marchiole, mancano poco più di 200 persone per smettere di essere spammer e diventare content creator serie Allora, Spezia Roma 1-0 Oggi finalmente una buona Roma Una grande Roma, secondo me Una Roma che ha fatto il tirarpiccione, come si suol dire col povero Provedelle Ma a poca concretezza, perché insomma sia Pellegrini che Abram che successivamente Zaniolo Si sono mangiati veramente l'impossibile 3, 4, 5 pali forse in una partita Non ricordo a memoria Una partita con così tanti pali E addirittura nell'ultimo minuto C'è stato il rigore di Abram che l'ha decisa Ma in quell'azione doppia traversa di Zaniolo Gol mangiato da Zaniolo Vabbè, doppia traversa di Zaniolo Però poi fortunatamente, insomma sfortunatamente per lui prende un calcio in faccia Rigore netto, ineccepibile E Abram lo segna da grande campione Nonostante oggi veramente abbia fatto una partitaccia, secondo me Allora Una Roma messa in campo bene Da Murigno Insomma da Foti, insomma chi per lui Una partita preparata veramente bene La Roma non ha praticamente mai rischiato A parte su un tiro di Nzola Il secondo tempo Una buona respinta Una bella parata di Diulio Patrisio Per il resto un primo tempo in cui la Roma poteva già essere 2-0 Tranquilla E invece per un grandissimo intervento di Provedersa Un tiro da fuori di Pellegrini Che salva il risultato Il risultato resta sullo 0-0 Abram si mangia l'impossibile Si mangia l'impossibile sia il primo tempo che il secondo Bene Zaleski sulla sinistra Mi è piaciuto molto Bene anche Marash con Bulla Che sta prendendo veramente le retini di quello che è la difesa E in centro campo Perdiamo Oliveira prima della partita Avere tu e Cristante Oggi Cristante secondo me ha fatto veramente una bella partita Dimostrazione che quando non viene attaccato Comunque quando ha spazio per pensare È anche un buon giocatore Il problema di Cristante E quando viene messo sotto pressione Abbiamo visto con Verona Quando è stato ridicolizzato Da Tamez Allora Difficile oggi insomma Andare a fare un giudizio su una gara E veramente poteva finire 10-0 tranquillamente per la Roma E invece Fino al 97 Rischiamo di commentare l'ennesimo passo falso Di una stagione Piena di bassi E anche di qualche alto Però più bassi che alti Una vittoria Insomma che ci voleva La Fiorentina Ieri ha fatto un passo falso Vediamo Atalanta e Lazio cosa faranno Giocheranno dopo di noi La Juventus Ha vinto Come ha vinto Ragazzi la corsa al quarto posto Se non era chiusa La chiuderanno per altri motivi Ieri due rigori negati all'Empoli Non è roba per noi La rossa al quarto posto Per dei meriti personali nostri importanti Però ricordo che ci mancano Qualche punto a noi E forse qualche punto in più C'era la quarta attuale Stesso discorso può farlo l'Atalanta Per come la vedo io Un'Atalanta che forse Meriterebbe più della Roma al quarto posto Ma che Ahimè Cara Atalanta Non ci arriverai Vediamo Vediamo anche il Napoli Appunto stasera Lazio-Napoli E vediamo Come Come sarà anche la lotta al primo posto Perché c'è un Inter e un Milan Che non riescono più a vincere Doppio pareggio E niente Insomma Un campionato veramente scarso L'ho definito Nella puntata di azione Uno dei campionati più scarsi Degli ultimi anni Ma penso sia veramente Il più scarso Di tutti Degli ultimi anni Le squadre che dovrebbero Fare da padrone Non lo stanno facendo Le squadre che dovrebbero salvarsi La stanno mettendo sul fisico Ho visto ieri La partita del Genova Che da quando ha cambiato allenatore Sta correndo tantissimo Lo stesso Cagliari Con Mazzari Sembra aver ritrovato Completamente un'altra squadra Oggi Lo Spezia Ha menato tantissimo Cioè ora Netto che Per onestà intellettuale A me se avessero Buttato fuori Insomma Un giocatore Come la seconda munizione Che l'arbitra Da Damian Mi avrebbe abbastanza Roduto Non tanto perché Il fallo non ci sia L'ammunizione non ci sia O meglio Non tanto perché Il fallo non ci sia In una situazione Dove Pellegrini Aveva la possibilità Di andare sul pallone Ecco Probabilmente Sarebbe stato giallo Ineccepibile Diciamo che Pellegrini in quel momento Non era neanche Sulla linea della palla Quindi forse Ecco Quel giallo Se voleva risparmiare Detto questo Quello suo A Codello Il secondo tempo Invece sarebbe stato Netto Quindi la Roma Avrebbe dovuto giocare Lo Spezia Avrebbe dovuto giocare In nove E quindi Insomma alla fine Dai Diciamo che Da questo punto di vista Un vantaggio Lo prende la Roma Un vantaggio Lo prende lo Spezia Certo è che la Roma Gioca 20 minuti In superiorità numerica Per un fallo che C'è Perché il fallo c'è Forse l'ammunizione È un po' esagerata Da lì si accenne Un po' Gli animi dello Spezia Anche lo stadio Tra l'altro Codello si sentiva benissimo Quello che hanno lanciato A Fabri E praticamente A ogni decisione C'era Bordello Assurdo Per un arbitro Che oggi Mi sentirei un arbitro Adomalissimo L'ammunizione Su Mancini Netta Questa volta Mancini Quindicesimo Credo Cartellino giallo Per un giocatore Che guadagnerà 3.5.000 A stagione Grazie Pallotta Per il rinnovo automatico Un rinnovo che secondo me Non meritava Visto la stagione Visto che attualmente Almeno per me È dietro anche Al buon Maras Cumbulla Che ripeto Dopo la striglia De Murigno Si è messo sotto Ha iniziato a lavorare Ha migliorato E oggi sta veramente Giocando bene Quindi bravo Bravo A Cumbulla Per il resto Non lo so Cioè nel senso Oggi mi tengo La prestazione di Pellegrini Che sta trornando Se stesso Oggi Altri 97 minuti In campo Sempre pericoloso Il tiro che fa Al primo tempo Ti meritava Miglior solto Il calcio di punizione Alla fine gira troppo Ma sta anche imparato A battere i calci di punizione Adesso ci mancano I calci d'angolo Perché sì A parte l'ultimo Che poi porta a rigore E quello è battuto bene Tutto il resto Sul portiere Quindi dai Lollo Imparate pure A battere i calci d'angolo E poi Sarai un giocatore completo Abram male Oggi troppa sufficienza Quando andava a fare Le conclusioni Quindi Roma veramente Poteva sbloccarla E sarebbe stata Completamente de merito Di Abram Zaniolo E di quelli Là davanti Compreso anche Pellegrini Perché si mangia un gol Anche lui Abbastanza semplice Se la Roma Avesse pareggiato Dico a esse Perché poi Il rigore Il primo Conquistato da Zaniolo In questa stagione Gli hanno dovuto Spaccare la faccia Per prendersi un rigore Permette Abram Di segnare Al 97 Ci saranno polemiche Perché lo Spezia Ovviamente Non l'ha presa bene Ragazzi Prende un calcio in faccia Non capisco Dove Come non c'ha In diretta Dove essere immediatamente Fischiato Il calcio Il calcio di rigore Ovviamente Fabri non lo vede Perché è coperto C'è veramente Tanta baruffa Lì dentro in aria Calcio di rigore netto Mi aspettavo Andassero a guardare Probabilmente Anche se lui Patricio Avesse combinato Qualcos'altro Per non dare il rigore Invece no Fabri lo dà E la Roma vince Questa partita Si riporta A meno sede Alla Juventus Ripeto La corsa al quarto posto Penso Sia definitivamente Chiusa Dopo quello che ho visto ieri La Juve Che comunque Con Vlaovic Sarebbe Comunque La La migliore Pretendente Poi Se ti annullano Anche Non ti danno Anche Due calci di rigore Che avresti dovuto avere contro È molto più semplice Allora Capitolo Capitolo arbitri Lo riprendo Perché Quello che è successo Anche questa stagione Questa giornata A me mi sta facendo ridere La corsa al scudetto Non è cosa della Roma Probabilmente Non sarà neanche L'anno prossimo Speriamo Sarà il terzo anno Quello che sta succedendo Però dopo Milan Udinese A me fa un po' ridere Perché Sul primo Sul primo gol Del Milan C'è una trattenuta Su Becao Netta E i media Non ne parlano C'è un rigore Di Tomori Su Beto E i media Non ne parlano E poi E poi Per Il gol Di Udogi Che probabilmente È da annullare Diciamo che è da annullare Si scadena Al finimondo Pioli si scorda Che ha detto Dopo Roma-Milan Anche non avrebbe mai parlato Di arbitri Parla di arbitri E Maldini Parla di arbitri Tutti parlano un po' Di arbitri E poi si dimenticano Che alla fine In una partita Dovermina riceve Un errore arbitrale A sfavore Ne ha comunque Due a favore contro Ecco Ecco Quindi io direi Gli arbitri Vanno un po' Rivisti Perché Mi continuo a esporre Su questo Io vedo Due squadre Due squadre Decisamente Aiutate Da inizio stagione Ieri Ripeto Empoli-Juventus Finisce 2-3 Con due rigori Non dati a Toscani Le altre Si Stanno avendo Tanti Qualcuna Sta avendo Episodi contro Episodi a favore Atalanta e Roma Andatevi a vedere L'ultima partita Dell'Atalanta Per non parlare Sempre della Roma E capire Insomma Quello che voglio dire Per il resto Contento Oggi veramente Una grande Grande Prestazione Contro un avversario Non semplicissimo Perché insomma Era in fiducia Anche contro la Fiorentina La perde Sempre all'ultimo Però insomma Gioca bene L'Ospezia Che si giocherà La salvezza Con il Venezia Che oggi Ha subito la tripletta Di Sipenone Insomma ragazzi Venite a vederci Su azione Per parlare un po' Di tutta serie Anche del discorso Arbitri Perché sapete Ormai È un po' Il mio Cavallo di battaglia Ma Sono convinto Che in una situazione Già mondiale Abbastanza difficile Anche se Nello sport Ci mettiamo Anche a A far finta Che non esistano Errori arbitrati Allora è un po' Inutile Che lo seguiamo Ecco Va bene Quindi contento Per la Roma Io Da l'antro Del Del nemico Guardate qua L'antro del nemico Vi saluto Vi ringrazio Forza Roma E ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti